Un pezzo di società, tutta la parte del deterioro di una società votata al capitalismo, votata all'immagine che ha fatto diventare moltissimi di noi schiavi di modelli. Se non si è in un certo modo non si può fare una certa cosa, bisogna in qualche modo rispondere a certi bisogni. I bisogni spesso sono indotti, non sono naturali e quindi c'è questa disarmonia nella natura che è difficilissimo ripristinare perché si vive per qualcosa che in realtà non ci appartiene. Siamo destinati a produrre, per vivere, però poi se quella vita è quella che vogliamo non abbiamo il tempo di capirlo, di chiedercelo. Quindi veramente bisognerebbe fare un lavoro completamente arritroso, completamente contro questo dettame della società, questa richiesta folle della società. Bisognerebbe fare un lavoro, come diceva il buon Freud, come diceva la psicanalisi, inichilista proprio distruggendo tutta la struttura che proprio la società ci piomba, ci mette addosso, ci cucia addosso. Bisognerebbe tornare alle cose essenziali. È una parola, no? È una parola perché poi dopo adesso, amici radioascoltatori, e questo ve lo dico da clinico, fino a quando in qualche modo potrò fare il clinico, perché mio Dio, sapete che adesso con speranza non basta più ammalarsi, adesso voglio dire, non lo so cosa si è inventato, praticamente bisogna, diciamo, dopo tre mesi bisogna subito in qualche modo, o ci si riammala ogni tre mesi, quindi quattro volte in anno, oppure è in discussione, proprio anche il posto di lavoro. Quindi pensate veramente com'è incredibile, no? Questa società. Però pensate, amici radioascoltatori, e questo ve lo dico da clinico, adesso è quello che noi chiamavamo depressione, non è quasi più una depressione, è un disturbo narcisistico, è una ferita narcisistica, un'intolleranza, una capacità di reggere la frustrazione, che è chiaro che davanti a una diagnosi differenziale, cioè uno dice, boh, ma ha disturbi depressivi, ha un disturbo depressivo, ha sintomi depressivi? No, no, perché ha un quadro narcisistico, quindi ha magari un umore flesso, ha persone che sono molto tristi, ma perché? Perché sono schiave anche di un'organizzazione sociale che porta veramente a, in qualche modo, venerare anche certi totem, certi simboli, certi schemi, certi bisogni indotti, siamo estranei alla nostra parte più autentica, siamo veramente estranei alla nostra parte più autentica, e quindi si vivono, si vedono queste situazioni in cui la persona magari accusa l'altra di tutti i suoi mali, però magari è dissociata da se stessa e quindi si parla del nulla, del nulla, del nulla, quindi del nulla, del nulla, ci si parla di niente, ci si parla di cosa? Ci si affezionano ad un'immagine che non è nostra, e poi magari si soffre per qualcosa, per una ferita a un'immagine che non è però la nostra vera identità. E queste sono proprio le dinamiche delle relazioni, le dinamiche dei giorni nostri. Allora uno ha un amico, ha un compagno, ha qualsiasi forma di relazione, un datore di lavoro, e però non conosce il datore di lavoro, non conosce l'amico, conosce la sua immagine proiettata, cioè conosce chi è quella persona lì. E quindi sostanzialmente amici dati ascoltatori, questi messaggi che stiamo ascoltando oggi sono veramente incredibili, poi li approfondiremo, ho già ricevuto tantissimi sms, l'artista che avremo dopo, che ascolteremo, che abbiamo invitato qui a Radio Gamma 5 è Andrea Lucisano, lui è un musicista, è un filosofo, dopo l'avremo proprio in diretta, ci parleremo, se volete potete anche chiamarlo, potete fare delle domande, potete chiederti conto delle sue canzoni, però mio Dio, quando un brano fa pensare, è anche lì forse che bisogna misurare la qualità del brano, del testo perlomeno. I testi che fanno pensare attualmente sono veramente pochi, uno ascolta un testo e dice bella musica mentre cuscino, mentre lavo, mentre stiro, e mentre voglio dire c'è il niente, il niente che viene trasmesso dalla radio. Poi lui, Andrea, ci spiegherà dopo, come vi anticipavo, ci spiegherà anche con che frequenze viene trasmessa la radio e qual è l'effetto di quelle frequenze, di quegli hertz, no? Per cui amici radioascoltatori, siamo veramente delle persone molto limitate. Io questo lo faccio, è un monito che faccio a me quotidianamente, ma è un monito che mi permetto di fare a voi tutti. Non esistono, io per esempio a volte rifugono, anche qui in radio, l'altra volta sono venuto molto imbarazzato, no? Sembrava che fossi una star, no? E che bello, bravo, sei Paolo Russo, sei... Ecco, queste cose sostanzialmente mi imbarazzano perché poi dopo in realtà forse la vera qualità è quella di portare se stessi, la propria esperienza, il proprio lavoro e credo che in questa radio quasi tutti e veramente quasi perché non conosco tutti, però non ascolto tutti, però quelli che ho ascoltato ci mettono appunto questa passione, questa voglia, no? Di esserci in quello che dicono e questo è il vero salto di qualità. Però, mio Dio, non esistono eroi, non esistono eroi da nessuna parte, esiste forse un atteggiamento, un atteggiamento, un atteggiamento votato alla ricerca della propria consapevolezza, no? Alla ricerca della propria essenzialità, a volte si incontrano fantasmi, pulsioni di tutti i tipi, però forse poi dopo la vera sfida è quella di contenere, di dare spazio a tutto, di convivere con tutto quello che c'è dentro. Ecco, forse la cosa più profonda che possiamo, che dobbiamo a noi stessi è quella di riuscire a mantenere uno spazio tra noi e gli altri perché comunicare è difficilissimo, perché comunicare presuppone in qualche modo una lunghezza d'onda simile, che l'altro sia un po' sintonizzato, no? E questo veramente in questa società è tanto difficile, figurarsi, amare, amare l'altro e quindi veramente è una cosa difficilissima, che richiede veramente uno sforzo, una consapevolezza, una presa d'atto, uno status, uno statuto, cioè un modo di porsi verso l'altro decidendo anche, come dire, che cosa fare della propria vita, no? Se essere sostanzialmente, se essere veramente umili, nel senso consapevoli anche dei propri limiti e quindi di vedere nell'altro anche la possibilità di sbagliare, ma soprattutto di porsi come fallibili. Poi è chiaro che questo porsi come fallibili in qualche modo è la dimensione che umanizza per certi versi, no? A me, per esempio, non è piaciuta molto la riflessione su chi non si è vaccinato, che dice, eh beh, siamo sopravvissuti e adesso voi vi siete fregati tutti. Ecco, questa la sento un pochettino molto dolorosa, perché in realtà se questa società è diventata così brutta, per certi versi, come dire, è diventato brutto il posto in cui viviamo. Per cui sostanzialmente vi dico che questi ospiti, questa trasmissione è stata costruita proprio per tenere accesa a una posizione di pensiero, di pensiero critico e soprattutto di consapevolezza verso la propria etica, che non è la morale, è proprio il senso di cosa è bene per ognuno di noi, di che cos'è giusto per ognuno di noi. Poi questo senso di giustizia individuale bisogna anche in qualche modo portarlo in giro, portarlo quando si incontra l'altro, non bisogna rinunciarci, però magari cercare di sintonizzarsi con l'altro, per certi versi anche capendo che l'altro è un altro, appunto, non è altro da noi. E questo è quello che veramente è impossibile fare in questa società. E questo è quello che il nostro amico, che chiameremo tra cinque minuti, Andrea Lucisano, denuncia in questa canzone quando lui dice l'influencer vi sta dando un modello di che cosa è, un modello morale di che cosa è giusto, ma voglio dire, accettare quel modello significa aver fallito, aver fallito con se stessi, oppure procrastinare, spostare in avanti questo rapporto con le cose che contano, con le cose consapevoli. A volte ci sono persone che scelgono il sacrificio nel nome magari di una responsabilità, e quindi ci sono quelle persone che prendono spesso sulle spalle, vuol dire, anche tante altre persone, ma lo fanno perché sposano, perché abbracciano dei principi, ma quelli principi lì si devono sposare con la propria etica, no? Deve essere una scelta. Io sopporto, io accetto, ma perché in fondo però lo voglio. Ecco, questo cambia la qualità della relazione, questo cambia la qualità dello stare al mondo, questo cambia proprio il senso di noi stessi, perché guardate, amici radioascoltatori, io sono molto, come dire, schetto e netto, nel senso che credo che non se ne esce da questa situazione storica se non adattandoci, come diceva il buon Darwin, l'intelligenza è adattamento solo, sostanzialmente, ma adattandoci in termini evoluzionistici, se non cominciamo a fare quel salto di coscienza che significa andare verso un modo di stare al mondo più consapevole, più autentico, dove esistono gli individui e non più la massa, dove esistono tanti sensi di giustizia e dove esiste soprattutto la capacità di sintonizzarsi con gli altri e quindi di sapersi mettere un po' via e di guarire da questo narcisismo mediatico, da questo narcisismo che si respira nell'aria, nella comunicazione, in tutti i mass media, questo virus del narcisismo, che è quello che veramente ci ha chiuso in una trappola, perché il vero lockdown è stata l'incomunicabilità che già avevamo prima di questi due anni. Comunicare con l'altro è difficile, amici radioascoltatori, e anche se voi dite qualcosa non pensate di aver comunicato quel qualcosa, difficilmente l'altro lo prende, ma lo filtrerà, lo ridefinerà con i suoi filtri morali e quindi è davvero difficile, ma poi pensate anche a quanto è difficile dissuadere l'altro se non manipolandolo, ma la manipolazione è figlia del narcisismo e allora far cambiare l'idea all'altro senza manipolarlo è quasi impossibile. Forse è l'unica strada, a questo ve lo dico, ovviamente con una deformazione professionale, personale, perché sapete che io ho portato la poesia nelle strutture psichiatriche, per me la poesia è stata sempre uno strumento di cura, ho creato i gruppi simbolico-espressivi, perché la poesia è un modo per comunicare attraverso un simbolo che è molto più universale della parola. L'unico modo di contagiare l'altro di cose buone è contagiarlo con uno spirito autentico, quello che i poeti chiamano il bambino, il fanciullino, contagiarlo con il nostro entusiasmo, allora si può contagiare l'altro, si può dire all'altro simbolicamente giochiamo, viene a giocare, viene a fare qualcosa di bello, quindi contagiare il nostro entusiasmo rispetto alla voglia di riscatto, perché questa è la dimensione che noi dobbiamo ritrovare, dobbiamo ritrovare la dimensione di stare insieme, ma stando insieme come fanno i bambini, con lo spirito di chi si vuole divertire con l'altro, di chi ha bisogno dell'altro per giocare, è questa dimensione autentica, senza sovrastrutture sociali, allora noi dobbiamo recuperare uno spirito autentico, ma uno spirito essenziale, uno spirito fatto di valori, quelli puri, non quelli artificiosi, e questo si raggiunge, diciamo, con una scelta, uno dice da oggi, voglio vedere cos'è che mi accende, cos'è che mi fa stare bene, vado lì, verso, vado verso me stesso, e questo viaggio lunghissimo verso se stessi, è un viaggio meraviglioso, perché per certi versi, dove ci siamo noi, la paura non spaventa, dove ci siamo noi, siamo al sicuro, è casa nostra, dove ci siamo noi, non c'è l'altro che ci può spostare, perché siamo ancorati, le nostre radici, in qualche modo si sviluppano, e si nutrono della parte più profonda, dell'esistenza umana, che poi ovviamente, probabilmente, e come Jung ci ha insegnato, ha veramente molto, molto, moltissimo di mistico, e di spirituale, io, amici radioascoltatori, vi do appuntamento, quindi non ve ne andate, e non ve ne andate, ma è un viaggio, è un viaggio, ma è un viaggio, è un viaggio, è un viaggio, è un viaggio, Grazie a tutti